Un gruppo affiatato, competente e volenteroso, in grado di capire le necessità di ogni cliente, di interpretarle e di trovare le soluzioni più adeguate. Un'esperienza trentennale nel settore delle assicurazioni, messa a disposizione di ogni cliente con umiltà, per far sì che ogni polizza diventi un vero e proprio mezzo per aiutare ognuno di noi a vivere meglio. La prima cosa che mi sta a cuore dire è che la Fasola di Fontana è cresciuta su questo territorio, un territorio come quello Veneto che ha un'energia e una forza particolare, un territorio che unisce la storia e dunque la tradizione, ha una spinta verso l'innovazione molto importante, una spinta innovativa verso il futuro. La domanda del cliente è una domanda di sicurezza e va data una risposta certa, una risposta precisa a questa sua domanda. Sono convinta che oggi svolgere il nostro lavoro sia saper tradurre e parlare linguaggi differenti. Quello del cliente che entra in agenzia e chiede delle risposte concrete alle proprie esigenze, delle proprie richieste, è quello delle compagnie che fanno dei prodotti con un contenuto anche d'avanguardia elevato, con un contenuto tecnico e sicurativo importante, ma che ha bisogno per essere compreso di un filtro. E qui arriviamo noi. Un servizio sartoriale dunque, calibrato in base alla quotidianità vissuta dal cliente, tenendo conto di ogni singolo aspetto senza tralasciare dettagli. La copertura assicurativa offerta dalla Fasole Fontana non ha nulla a che vedere con moduli prestampati e pacchetti chiusi. Qui tutto viene realizzato su misura. Non offriamo un modulo prestampato con delle medesime garanzie che vanno bene per tutti, ma analizziamo la realtà del singolo cliente, la sua quotidianità, la sua impresa, il suo commercio, per condurlo ad un percorso di protezione che non si esaurisca qui ed ora, ma che spinga l'attenzione all'idea che l'assicurazione non è un qualcosa che si deve pagare, non è un mazzello, non è una tassa, ma è un qualcosa che se è usato bene fa stare più tranquilli e mai come d'ora la tranquillità è sinonimo di benessere e quindi di ricchezza. Dalle piccole e medie imprese alle grandi aziende alle famiglie spesso le consulenze vengono effettuate direttamente nelle sedi del cliente per toccare con mano abitudini, attività e lavoro. Trattiamo naturalmente tutti i rami assicurativi con una particolare attenzione per quelle polizze che riguardano l'agricoltura, l'allevamento, l'enologia, la floricoltura, che sono i capisaldi del bilancio economico di questo territorio. Ci occupiamo anche di famiglie, ci preoccupiamo di assicurare le loro case, di assicurare i mezzi che circolano su strada, di accompagnare la crescita delle nuove generazioni, comprese quelle a quattro zampe, proponendo delle polizze di responsabilità civile del capo famiglia, della polizze salute, ma trattiamo anche i temi come la previdenza integrativa o del patrimonio e proprio pensando al patrimonio siamo in grado di offrire delle agevolazioni del pagamento dei premi molto interessanti. Ci sono polizze per tutte le tasche e a queste tasche noi le adattiamo. L'accoglienza e l'assistenza al cliente sono punti fondamentali per l'azienda che negli ultimi anni si è dedicata molto anche allo sviluppo di piattaforme internet e social. Da tre anni il nostro sito, piuttosto che le nostre pagine Facebook, sono ricche di un contenuto sempre aggiornato dove si possono avere degli scambi continui e delle informazioni sul mondo assicurativo. Insomma, otteniamo una sorta di lavoro sartoriale dove la materia prima non è la lana e la seta, ma sono le condizioni assicurative. D'altra parte non si comprende come potrebbe essere diverso il nostro lavoro se non fatto su misura, personalizzandolo. La personalizzazione quindi sono convinta non sia un lusso, ma un riconoscere la singolarità, l'unicità del cliente che sta di fronte a noi. Assicurare un'auto, assicurare un fabbricato, tutelare le campagne, un'azienda agricola, non sono semplici gesti che si usuriscono nei confronti di chi in quel momento li sceglie, ma hanno una valenza importante sia per il territorio che la comunità, alla fine per la creazione di una cultura assicurativa, una cultura del vivere meglio.